Vediamo se oggi riusciamo addirittura a fare la polenta al sole Siamo circa a 90 gradi dopo una ventina di minuti Vediamo se riusciamo a cuocerla Speriamo bene, ci sentiamo dopo Ecco, controlliamo un pochino la cottura della polenta Siamo a 100 gradi Infatti sta bollendo anche la ghiandaia che è passata ora è contenta della polenta Allora, dobbiamo di non buttare in terra niente E vediamo se è cotta Ah, ma c'è tia da sui Wow Si riesce a guardarla? No, io non vedo niente Va bene, se Ah, eccoci qua Senta a bruciare Possibilmente Buona Allora si rieverà bene E anche pronta Scaldiamo un po' anche i funghi per la polenta Dell'inverno scorso Eccola qua questa bellissima polenta Buon appetito 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 Buon appetito